Dalla parola a pieno, partiti! E' un vantaggio urgolo davanti a Lord Ballantyne, Tabby Fox, Red Robbery, Trip Aranda Brill, Bells Ringing, Ram Off Caffeina e Lady Bangkok. Dopo 400 metri di corsa, Red Robbery ed Urgolo conducono davanti a Tabby Fox, Lord Ballantyne, Ram Off Caffeina, Pegasus, Trip Aranda Brill, Bell Ringing e Lady Bangkok. Proseguono in vantaggio Urgolo e Red Robbery davanti a Tabby Fox, Lord Ballantyne, Ram Off Caffeina, Trip Aranda Brill, Pegasus, Bell Ringing e Lady Bangkok. All'inizio della curva è sempre in lotta Red Robbery ed Urgolo davanti a Tabby Fox, Lord Ballantyne, Trip Aranda Brill, Bell Ringing, Ram Off Caffeina, poco prima dell'ingresso addirittura, passa Urgolo davanti a Red Robbery, Trip Aranda Brill, le Tabby Fox, i cavalli entrano in dirittura, con Tabby Fox in leggero vantaggio, attaccata all'esterno da Trip Aranda Brill, seguono Bell Ringing, Lord Ballantyne, Pegasus è in vantaggio, Trip Aranda Brill, attaccata all'interno da Lord Ballantyne, è in lungo la corda, Bell Ringing, passa Bell Ringing, davanti a Lord Ballantyne, e Tabby Fox, conduce Red, Bell Ringing, davanti a Lord Ballantyne, Tabby Fox, e Trip Aranda Brill. attaccata all'esterno da Lord Ballantyne, 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 Grazie.